ben ritrovati di nuovo su redoing you vado a recensire insieme a voi una custodia per beretta 92 fs ma anche per altre pistole l'ho acquistata su amazon link in descrizione l'ho pagata di circa 20 euro e rispetto alle altre fondine devo dire che questa qua mi ha convinto in modo particolare per il fatto che ha comunque una certa stabilità il materiale adesso ve lo faccio vedere è comunque una plastica dura come vedete anche spessa e devo dire che quindi quando si va a posizionare la pistola all'interno resta comunque bella stabile arriva anche con questa brugolina che mi permette quindi di svitare questi due viti diciamo e di fare una rotazione di 60 gradi quindi che vi permetterà di avere l'angolazione che più preferite della pistola come vedete qui al di sotto si va poi a mettere all'interno di questa fessura la cintura quindi la mettete nella vostra cintura e devo dire che la stabilità è veramente fantastica c'è anche poi una clip di sicurezza che vi permette di mettere la pistola e poi con un premendo una volta questa clip si sgancia sennò non si muove ottimo acquisto non costa pochissimo perché costa comunque sui 20 euro però devo dire che rispetto alle altre custodie mi ha convinto particolarmente la beretta 92 si adatta perfettamente a questa custodia quindi ottimo acquisto ve lo consiglio grazie 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 grazie